Non so come fuori non c'era la sinistra ? Occhio ! Fai il culo ! Levame il basso ! Levame il basso ! Voi salvare la voce! Ravoi io, se vuoi! Chi era chiuso? E' un pò che è saluto in ferro! Vieni! Non! 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 Non mi non lo sapevo! Eh, hai chiuso a ierci! Si! Nero! Ah! 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 Noi andiamo, Dabbi! Ci siamo quasi! Adesso! Andiamo! Avanti! Forza! Vai! Dalla finestra! Andiamo! Presto! Ci sono! Ci sono! Non allontanarti! Dove stiamo andando? Di qua! Andiamo! Di nuovo! Non rallentarsi! Corriamo alle cose! Di qua! Forza! Ehi! Sono Tommy! Lui è Joel! Come ti chiami? Abby! Abby! Stai bene? Sì! Resisterà! Dobbiamo tornare! Non arriveremo mai oggi! Dobbiamo sbarare la porta! Non possiamo stare qui! Ma i cavalli non reggeranno fino a… No, i miei amici! Loro sono in una casa qui a nord. È recintato. Il perimetro è fortificato. E dove sta porta? Funzionerà! Io penso alla porta! Bene! Tu vieni con me! Andiamo! Forza! Forza! Tutto! F Role! Sì, 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 sì.